Non ho recuperato il corpo, ma ho con me delle prove. Ti spiego tutto. Avvia la condivisione. Siamo stati molto avventati. Ieri abbiamo colpito Miranda mentre era trasformata, ma non l'abbiamo uccisa. Chi immaginava potesse fingersi morta? Miranda poteva avere infettato Ethan, quindi ho portato lui e Rose con noi. Ma il veicolo che li trasportava è stato attaccato. Quando sono arrivato, Ethan e Rose erano spariti. L'ultima volta che ho contattato Ethan, ho sentito la voce di Miranda. L'ha ammazzato. E la pagherà molto cara. Porca puttana, quando finirà? Di che parla? Della missione? Di tutto. Da tre anni provo a chiudere questa storia. E tre anni sono troppi. La fermeremo, capo. La squadra è pronta. Così la BSA-A è già qui. Non hanno perso tempo. Il piano cambia. No, non c'è nessun cambiamento. Eliminare Miranda e salvare Rose. Questa è la missione. Ed è pietato fallire. Buttiamoci nella mischia, gente. Proprio come ai vecchi tempi. Muoviamoci. Ricevuto. Va bene. K9, scopri che ci fa qui la BSA-A. Indaga, ok? Ok, ci penso io. È tanto che non combattiamo assieme, capitano. Quando è stata l'ultima volta? Nel deserto? Facendo solo ricognizioni, sono fuori forma. Ma grazie a te, ora conosciamo il piano di Miranda. Non ci potevo credere che si fosse trasformata in mia. Prendersi cinque colpi in testa non è cosa da poco. Mi dai prividi. Ehi, Alpha. Guardi qui. La BSA... Stanno esagerando. Cristo. C'è un bel casino, lì. Come raggiungiamo l'obiettivo? Innanzitutto sbarazziamoci di quella roba. Conti su di me, capo. Brighiamoci. Attenzione alle armi biologiche ostili. Ricevuto. Contatto con un gruppo di armi biologiche ostili. Sono più di quante pensassimo. Attenzione. Attenzione. Il percorso a vesti è libero, vado. Ricevuto. Avvistato il veicolo BSA. Ah, due guardie. Un gioco da ragazzi. Non sottovalutarli. Che diavolo è quell'affare? Il mutamicete. È ovunque. Deve essere lì che si trova Miranda. Andiamo. Armi biologiche mutate. La muffa può rilasciare particelle andate. Non ti chiedetevi da rischiare. Cazzo, la strada è bloccata. Non si preoccupi. Faccia il giro del villaggio. Capo, sono io. Sono in postazione e mi preparo a fare fuori. Ci dovrà un minuto. Ricevuto. Qui Tundra. Capitano, ho lasciato dei rifornimenti in una casa. Si serva pure. Capitano, ho lasciato dei rifornimenti in una casa. Amberize. Mi serve sul porto. Mi serve sul porto. Mi serve sul porto. Mi serve. Mi serve. Mi serve. Grazie a tutti. 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 Tutti i laser sull'obiettivo, poi me la vedo io. Altre cinque dalle montagne. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non mi dica che il marcatore è rotto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene. Non c'è segno delle alterazioni del genoma presenti nella serie E. Questa roba è nata qui. Sei a guardia del mega micete. Grazie a tutti. Ho bisogno tosto. Ho bisogno di supporto. C'è un'apertura in alto. usa quella. Bene. 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 Te lo illumino col laser. vai un'apertura in alto. Vai un attimo. va un attimo. No. 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 Ecco il negamicete. Alfa a squadra. Ho localizzato il negamicete. Possiamo mettere fine a questo casino. Non aspettavo altro. Andrò. Esplosivo N2 pronto. È sufficiente per distruggere il villaggio. Facciamo saltare in aria questo posto. Prima eliminiamo Miranda. Meglio non correre rischi. Adesso vado. Ricevuto. In attesa. Capitano, Miranda abbistata nel luogo della cerimonia. Mantenetevi a distanza. Non muovetevi fino a nuovo ordine. So che ormai è troppo tardi, ma abbiamo sbagliato a non dire tutto a Ethan. Non c'era tempo. Ma nessuno si aspettava che Miranda agisse così in fretta. Lo so, ma avrebbe dovuto dirglielo. Già. Deve essere il laboratorio di Miranda. Ecco che usano per controllare le armi biologiche. Certo. Certo. E del rumore. Certo. Non c'era tempo. Non c'era tempo solo. Certo. Ma? Non c'era tempo masi. Certo. ENDO a linea di dalla città. Animalo. Grazie. Spenser? Qui? Non ci credo. Non so che stia facendo, ma è nel luogo della cerimonia. Oh, cazzo. Sei davvero tu? Per fortuna stai bene, Mia. Che ci fai qui? Mi hanno presa e mi hanno analizzata. Lei ha detto Mia? Mia Winters? Proprio lei. Com'è la situazione lì? C'è una guerriglia in corso, niente di che. Non distraetevi. Seguite il piano, vado al luogo della cerimonia. Aspetta! Non puoi lasciarmi qui! Avevi fatto una promessa! Hai detto che ci avresti protetti! Abbiamo fatto quello che volevi! Ci siamo persino trasferiti qui! E a me andava bene. Purché rimanessimo insieme. Quindi ora dimmi. Dov'è mio marito, Chris? E dov'è mia figlia? Ethan... Scusa. Con lui ho fallito. Però posso salvare Rose. Andiamo. Questo posto non è sicuro. In che senso hai fallito? È morto. Mi spiace, Mia, ma dobbiamo andare. Dobbiamo distruggere il villaggio. No! Ti sbagli! Ho provato a tenerlo nascosto, ma... Tu non puoi capire quanto lui sia speciale. Tu non puoi capire quanto lui sia speciale. Grazie.